Ciao a tutti, oggi vi propongo una mousse di ricotta al tiramisù, perfetta per l'estate. Una ricetta facile, veloce, da preparare in pochissimi minuti. Ora vi mostro subito gli ingredienti. Per questa ricetta avrò bisogno di 250 g di ricotta, 250 ml di panna da montare, 6 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di cacao in polvere, 7-8 biscotti savoiardi, 200 ml di caffè zuccherato e 40 g di gocce di cioccolato. Inizio a montare la panna. Ora aggiungo la ricotta, aggiungo lo zucchero, ora frullo ancora un po'. E per ultimo aggiungo ancora le gocce di cioccolato. Spezzo i biscotti e li bagno nel caffè e poi li metto dentro dei bicchierini. Ora riempio i bicchieri con la mousse di ricotta. ecco qua la mousse di ricotta tiramisù pronta o aggiunto sopra un po' di cacao in polvere. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao!